SEMO BESSI TRRRR SEMO BESSI SK SEMO BESSI TRRRR SEMO BESSI Frison! Sei! Tu voleste sapere questo schifio, eh, per dare le buttere, ah! Vuoi chiestere mai che oggi lo sanno a rompere tutti i pari? Ma chi fa e mi sto racconto con qualche dottor Roggaribaddi, campanificio! Peruzzi, 5 Sembra il più migliore partita in battita A stavota concede solo 26 cross rosolato con i 91 partiti scossi Insuperabile! Anzi, tonno insuperabile! Anzi, solo tonno! Anzi, copieri tonno! Spolli, 5 Un gol si può pigliare Ma sembrano la stessa maniera Sembrano la stessa rottura di coddo maniera Oh, fatti crescere la pappa! Jombeg, 5 Ma i chi stu belli i palliauti Talia, talia! Ma stu pallone è nuovo! Beeeello! Taliavano una occia da indicchia Meglio che mi stai fai, ma così si viri meglio Oh! Quando i cosi stu belli, stu belli, i cosi giusti Intenditore! Capuano, 6 Lasciamo stare che mi pare che ci mancano una occia e due macchie che ha la pinzione Lasciamo stare il fatto che all'attacco non c'è quasi mai e di piccavote è meglio che se sta un niente Lasciamo stare magari che sbaglio e ci passaggio sopra due Su tutti ci vendiscono la stessa voglia e grinda che ha avuto A sto rocchio e punto sveglio l'avevamo sicuro Ho fatto che fino ad ora è l'unico esempio che picchiamo di hit sui piedi Maestro Splinter Carello Quaccio Emblema lo schermo rocadano da sti primi battiti Io c'è una palla, fai tu Due passaggi giusti di fila non è in setta Lanci lunghi picchietti assettati in tribuna E c'è un campo a sti sta consistenza dai ghiaccio che inizia da costo L'unica cosa buona è che fa scandare l'avversario dei guandellari Stastate da una gita fu catturato da una cibo di cannibali E appena ho visto non diventano vegani Alendelon Caprec 5 Io c'è un fazzoletto di campo e l'unica cosa buona che ci rinesce è usciare il suo naso Purazzo Stapattita mi passa l'emblema della mia adolescenza Visto che c'è un giocamento erano sempre 5 conci a 1 Brufalo Rosina Cinga e Menzo Pellegrino ti dice di giocare poco poco più a dare il pipitare un pressing avversario E infatti fico libero Io che giustamente visto quanto è chiaro Tu play basso Ma da mente basso che la botta ha visto il cobinocolo Galileo Galilei Leso 8 e Menzo Carusi che classe Che stile Chi tocco di palla Come fa a furiare le palle E poi chi gibling Si ha giblato a pellegrino che passi Neymar E poi chi tiro Spicchiato da bottiglia di stena all'ingrocio delle palle da panghina che fu fenomenale Giorga bestia Mattino 5 Si si dio Nero partito ne ho solo che tende a giocare il pallone Adesso si unghiò Rosina io che ho quasi intorno a giocare Che io non avevo ci abbia di ricordo Cuccovi sta a giocare Cuccarello Funcia Che io Senza voto A fine partita ci domandavo a chi della panghina se si facevano due passaggi e tiro in botta Giusto più giocare Magari Solo che escalante Garufi Parisi e Jankovic ci passano quattro carusi da cattapalle Ma se il legno ancora non capivo neanche un saccova Ha restato solo Monson e se ne ho ritorito dopo senza neanche fare questa doccia Tanto manco su Rao Castaway Anania 5 Per i peri di Giga ci restano 6 e mezzo 7 11 Ma Sarà che sono più ignorante del capoano Però io ho visto che andando a tiro di cencio campo e stavo abbiano inci E andò con la cioppicao su Ben Hill Un punto su Becchio e poi che ho riparato Predom Cascio Faccio immenso Mi spedendo lì in sotto Mi pare che ho un match e l'amaretto tutti Ho perso le parole Cani non disputata No 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 carusi non mi pigliate più fissa per chi non c'è E' inutile che ci abbiano senza voto per chi non c'era A domandare per i peri Ma non ho visto nudo Mistero Pellegrino 1 Come un punto in classifica Oppure come ti rimbottano questa partita Oppure più l'eleganza visto che pareva un gambarino d'innesto Una quattro partita vincita l'anno scorso ci fu un parere E avanti con questi testi che ci sono due sbagliatevi E due pastiche non è cosa Forse con una squaccia normale Qualche cosa poteva fare Ma cucchista nooo Che non ci vuole mister risorsa Che ci vuole mister rompilosa Ma così ci tagliamo questa faccia E non facciamo pezzi Grazie comunque Maurizio Corona Centino Quattro Allora Diretor Entiendo che forse non teniamo occhio manco per chiancher Però 2000 arriere per un allenatore decente Los potevamo uscire Ademais Il centrocampo È la parte fondamentale di una squadra Succhavamo solo Carello e Caprec Donde dobbiamo andare andando Porche in difiesa Tenevamo 3 tercini Che non cucchiano forse mancomienzo Porche in attacchi Tenevamo 9 mezzi punti E come riserva un canaro son Donde estan Los giocatori Decientes Para la cadetteria Porche Tenevamo giocatori Che passeggiano Come si fossero Nella illa varaggios Botteglia de cristallo Porche